ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo una puntata in esterna allora eccoci qua siamo in quel dice parana dell'amico john cool straps che parte l'ufficiale del canale cioè l'artigiano che crea i cinturini john cool straps sarebbe anche giovanni cinturini fighi e questo ci piace tanto a me e all'amico piero che siamo insieme come al solito prendo la mia telecamerina e lo inquadriamo così saluta tutta la gente che deve salutare che devo saluta ha mangiato una mandorla mandorla e che orologio abbiamo piero al polso qua oggi tagoyer acqua racer con calibro sellita sv200 ma questo qua è veramente un orologio che ti invidio quello che mi piace più della tua collezione la collana non me ne vedi la collana è quella che vende marrakesh bellissima bellissima occhio di tigre io invece che orologio io sto indossando il mio bellissimo viller vetta dyna wind 39 millimetri di diametro stesso calibro del tuo sv200 sellita tutte e due insieme che io indosso con questo cinturino nato da 20 mm di passo di solito dici che io indosso con piacere non lo so con piacere ma come mai siamo qua piero siamo qua perché devi farti fare il cinturino che questa la so devi farti fare il cinturino su quell'orologio lì cavolo invece lo te lo spiego io perché siamo qua come non siamo qua per questo siamo qua perché essendo che parte l'ufficiale del canale e me lo fai scroccare un cinturino ogni tanto no e me lo potevi dire venivo con un orologio senza cinturino no 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 il tagoyer acquaresce sta bene col suo bracciale io invece qua qual è il progetto che io metto il mio nato da 20 mm qua su un'ansa da 22 per sfinarlo un po no però a questo punto mi è venuto a mente mi faccio fare un cinturino da 21 e lo metto qua e poi c'è anche un'altra idea un nato in pelle da 20 un nato in pelle si single pass da 20 da mettere qua al posto di questo colore testa di moro con le punture adesso ce ne faccio fare tutti e due che tanto sono gratis perché parte l'ufficiale del canale gli faccio la pubblicità e qualcosina mi trovare a dare no e direi proprio di sì a me non mi dà mai niente te sei amico di tutti e nemico di nessuno quindi mi faccio fare due cinturini e ve li faccio vedere anche a voi come li fa proprio col sudore della pelle proprio capito maniscaico lavora e poi dopo decido già decido ma ripido tu e due che non si sa mai e poi poi decido quali indossare uno o l'altro no faccio tutto l'ambra dana andiamo andiamo a chiamare giovanni adesso stiamo iniziando alla lavorazione per il mio nato lo vedete con lì è da 20 me lo sono fatto fare da 20 come questo qua esattamente con questo però in pelle perché mi garba così basta niente cucitura no le cuciture ci metti che se poi dopo il nato può andare di qua di là le cuciture cambiano di posizione cioè dove le metti le cuciture non lo so ecco l'uuhu la colla non ricordi l'uuhu e ti stai ancora è un po' larghino questo cinturino 21 quello lì si lo vedi fare un panerai ma scusate da quant'è il tuo lanza è da 22 e perché lo vuoi da 21 perché me lo sfina un pochino capito hai scassato il cazzo questo sfino è più bello da 22 e questo qua è da 20 e allora da 21 vabbè praticamente abbiamo Piero che è il mio il mio natino da viene così testa di moro e invece quello il cinturino da 21 è nero capito c'è anche la scelta per il sabato e la domenica adesso andiamo a mangiare la bistecca qualche volta che orologio ti metteresti per mangiare una bistecca da un chilo però per mangiare la bistecca da un chilo è una domanda non sto scherzando che corrologio metteresti io metterò l'omega speed master l'omega speed master ma ricorderò questa io mi metto lo swatch come mai perché voglio sentirmi povero mentre mangio una bistecca da un chilo così paghi tu il trucchetto è quello l'orologio del giorno del nostro amico John Kustrap qual è l'orologio del giorno si ma sta un po' fermo che devo inquadrarlo tu vuoi far vedere il centurino porta un belino centurino è bellissimo adesso sta incollando le due parti è anche un nero opaco questo è ma stai facendo due centurini contemporaneamente non è non è grigio questo qua è grigio scuro diciamo che grigio asfalto è la smussatura laterale no smussatura laterale che il termine tecnico è il termine tecnico è il termine tecnico è smussatura laterale smussatura laterale serve per fare in modo che il cinturino nel tempo poi dopo non si rovini perché cioè se c'è un se non c'è un angolo vivo tende a sbriciolarsi deteriorarsi no invece è smussato resiste di più oltre a non dare fastidio al polso a contatto con il polso ma che cazzo mi sto a spiegare a voi altri e invece quello intrusore a n***o cosa serve scarnitura questa si chiama scarnitura 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 della pelle guarda che bellezza da un pezzo di pelle cosa viene fuori mi piace più questo che il nato aspetta che sono finiti no hai ragione però il colore grigio scuro così secondo me è azzeccato proprio si è un bel colore ci sta bene perché il quadrante di orologio qua è nero però sembra quasi grigio ma va vuol dire che lui lui lavora con cognizione di causa sa quello che fa hai capito si a martello balla martello quanti ricordi con martello praticamente adesso stiamo facendo i passanti dove ne fai di passanti uno solo e perché sono due pezzi stai zetto coglione il minimo dettaglio si va a sistemare in questi cinturini qua tra le due che colore preferisci pierre il marron nel testo di moro o quel grigio lì e quel grigio quel grigio lì non pensavo venisse così mi piace tanto come hai detto tu prima bisogna vederlo finito è finito e tanta roba è proprio bello fra l'altro il mio primo cinturino in pelle me l'hai regalato tu e l'aveva fatto lui john cool quello marrone con le cuciture bianche bellissimo il mio prossimo panerai al mio prossimo il mio primo panerai che mi comprerò mi verrò a fare il cinturino della john cool strap eccoci vedo già la fibra e l'ardiglione quindi vuol dire che ci siamo allora eccoci qua abbiamo i due pezzi finiti due cinturini finiti e il cinturino da 21 qua e il nato da 20 come vedete c'è due passanti bravo piero te si che sei sveglio e uno all'occorrenza no se me ne servono due ne metto due se me ne serve uno ne metto uno e se te ne servono tre se te ne servono tre torno qua e me ne faccio fare tre quattro cinque cioè riempio mi riempio tutto al nato con i passanti sarebbe una nuova moda però per il gusto di riempirmene è bello sottile mi piace è bello l'altro secondo me è la morte sua sai cosa c'è che devo azzeccarlo un pochino più dentro qua così ah beh si è normale ti devo insegnare tutto no no a me questo qua mi piace un casino mi piace questo qua è promossissimo eh proviamo l'altro? eh per forza oh allora come vedete il cinturino qua grigissimo vediamo con il passo da 21 sull'ansa da 22 che è un pochino no come dite fuori dal normale fuori dallo standard ma no questo è più bello di quello mi fa vedere il cinturino eh no lo roccio eh lo devi vedere come sta sta benissimo poi quel colore verde su verde è bello va bene dai ragazzi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se preferite il cinturino o il nato in pelle e io non lo so eh beh sono belli due fetture questo qua è bello eh bello 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 dai tiaro amico Piero vieni qua che facciamo la chiusura finale mi raccomando fateci sapere cosa pensate di questi due cinturini eh allora ragazzi eccoci qua come vedete siamo qua nella fase di riposo con dietro le pelli e qua il mio bellissimo ora c'ho il cinturino da 21 però devo ancora decidere se mettere in nato questo non lo so è la prima volta in 22 anni che ti appoggi sulla mia spalla perché di solito mi appoggio altrove va bene detta questa vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero vi sia piaciuto il video e aver visto un artigiano come John Kustraps del quale trovate poi il link sotto al video eh chiaramente e vi aspetto come al solito qua su youtube ogni volta che voglio io quando posso insomma dai ciao love fai love perché la mano destra ci è occupata aspetta a a a ah 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 Grazie a tutti.